Un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 persone, 7 in carcere, 1 ai domiciliari ritenuti responsabili a vario titolo di spaccio di droghe in concorso ed estorsione. L'attività investigativa coordinata dalla procura di Foggia rappresenta la prosecuzione di un'ulteriore indagine della compagnia di Manfredonia che aveva portato nel febbraio del 2022 all'esecuzione di una misura cautelare nei confronti di tre persone accusate di spaccio di sostanze stupefacenti. L'odierna operazione ha consentito di documentare da gennaio ad agosto del 2023 un florido traffico di cocaina e hashish venduti sia all'ingrosso sia al dettaglio nella città di Manfredonia nonché di accertare il ricorso alla violenza e alle minacce di ritorsioni da parte di un indagato nei confronti di due vittime per la riscossione di un debito di oltre 2.000 euro maturato per l'acquisto di droga poi saldato in almeno due tranche. A riscontro delle attività condotte nel corso delle indagini due persone sono state arrestate per detenzione di droga e sette assuntori segnalati alla prefettura.